ieri sera sono stato invitato da clienti a cena e molti dei quali hanno portato amici fidanzate figli eccetera per cui mi sono ritrovato attorniato da molte persone che non conoscevo e come spesso accade quando mi presentano soprattutto e mi presentano come astrologo si crea sempre questo alone di curiosità e quindi iniziano le domande più disparate ma anche tendenzialmente più banali del tipo come va il leone quest'anno piuttosto che io sono della vergine troverò l'amore eccetera cerco sempre di evitare una rigidità nella risposta perché ovviamente da professionista dovrei chiedere i dati aprire un grafico eccetera eccetera ma nel tempo ho capito una cosa legato a una tolleranza e cioè che non tutti hanno la necessità o la maturità per affrontare una lettura di un tema natale in modo completo è come un percorso no si parte da un percorso base e si arriva fin dove si riesce così come la scuola è la rappresentazione di questo si inizia col pallottoliere all'asilo e si finisce con le equazioni alle medie per cui è troppo sarebbe troppo rigido imporre un certo tipo di pensiero a persone che sono pronte solo al pallottoliere per cui sono contente di sapere le loro caratteristiche loro segno zodiacale punto fine quindi cerco sempre di mediare un po' l'essere estremamente professionale con anche la parte un po' gioco perché ci sta credo detto questo si siede vicino a me un ragazzo che molto incuriosito dall'astrologia inizia a farmi domande e mi chiede di fargli vedere come è fatto un grafico allora prendo il telefono da un'applicazione qualunque di astrologia metto i dati data di nascita ora di nascita luogo di nascita e viene fuori questo grafico la cosa interessante ma è molto più interessante per l'astrologo rispetto al consultante ed è questa che adesso spiego viene fuori una componente molto forte dell'elemento cancro è un una bilancia di quarta casa ricordiamo che il segno zodiacale ci dice come quel pianeta all'interno del segno risponde quindi questo è un sole bilancia per cui ha il suo progetto il sole è il progetto reagisce come una bilancia ma è un ma il dove questo progetto si attua ce lo dice la casa in quarta casa che è la casa del cancro quindi c'è una componente cancro molto forte quando troviamo il sole in una costellazione all'interno della casa non si può più soltanto parlare di segno zodiacale in questo caso un sole bilancia è una bilancia ma è una bilancia di quarta casa quindi e si dice una bilancia cancerinizzata cioè c'è una componente cancro molto forte dell'ascendente l'avevo abbastanza intuito perché gli ascendente cancro facciamo una premessa l'ascendente determina la fisicità del soggetto è quello che rappresenta l'io freudiano l'io sono e l'ascendente cancro è sempre molto burroso è molto difficile trovare un ascendente cancro magro tirato cioè essendo governato dalla luna il cancro quindi da questa da questo aspetto molto linfatico molta acqua tende sempre a essere morbido nei lineamenti che non vuol dire essere in sovrappeso però ha questi lineamenti molto morbidi e io ho notato molto ma è una cosa mia l'attaccatura dell'unghia nelle mani nelle dita è molto femminile giustamente essendo governato dalla luna il cancro ha aspetti molto femminili spesso e volentieri vengono anche fraintesi come gay solo perché hanno questa femminilità spiccata oppure la nascondono completamente e quindi per esempio tendono non so silvestre stallone super mega fisicato in realtà fisico costruito in modo artificioso con i farmaci però dentro in realtà è molto molto sensibile grande padre di famiglia la stessa cosa la costellazione del cancro costellazione del cancro è difficilissima da vedere occhio nudo è la più difficile da vedere occhio nudo perché tende a nascondersi e anche per questo motivo è stato scelto l'animale granchio anticamente era il gambero perché perché nel mese del cancro a luglio il sole raggiunge lo zenith quindi raggiunge la sua declinazione più alta e poi da lì le giornate tornano ad accorciarsi e quindi scende per cui cammina ritroso va all'indietro questo è il motivo perché è stato scelto un animale come il granchio come il gambero animali tra l'altro acquatici perché il cancro è un segno d'acqua ma detto questo si siede vicino a me appunto questo ragazzo guardiamo questo grafico mi fa tutte le domande e vedendo tutte queste componenti cancro mi viene spontaneo fargli una domanda sul lavoro perché intanto il sole soprattutto nel tema natale di un uomo parla anche del suo progetto di vita e solitamente chi ha un sole di quarta casa tende sempre a puntare alle simbologie della quarta casa cioè del cancro che sono legate alla luna la luna è un simbolo archetipo estremamente importante soprattutto in tutti i temi natali soprattutto in quello delle donne perché rappresenta la propria femminilità come la si vivrà rappresenta la mamma quindi il rapporto che abbiamo con la mamma rappresenta le nostre radici radici più profonde è un pianeta anche molto pianeta io lo chiamo pianeta anche se è un satellite però è un simbolo molto legato anche al karma dove arriviamo rappresenta la popolarità del soggetto lesioni molto forti sulla luna sono lesioni che incidono su una su una su una grande difficoltà nella propria popolarità questo insegna michael jackson la prima volta che venne accusato di pedofilia aveva un aspetto molto forte di plutone contro quella luna di decima tra l'altro quindi proprio la popolarità per eccellenza e tornando alla quarta casa e alla luna e al cancro la luna rappresenta proprio la casa in senso di abitazione spesso e volentieri i soli di quarta casa hanno lavorano in casa oppure hanno lo studio in casa non lo so il prano terapeuta che sotto allo studio però vive nell'appartamento sopra o hanno a che fare con le case per cui quando ho chiesto a questo ragazzo di che cosa si occupasse la risposta è stata mi occupo di immobiliare non mi ha sorpreso tantissimo immobiliare di russo cioè vende strutture di lusso importanti e questo è una una specie di diffusione tra la bilancia il bello il lussuoso anche per certi aspetti anche se il lusso è più legato al leone comunque il bello esteticamente con il cancro casa per cui ci sta a quel punto viene spontaneo dire al soggetto caspita hai proprio tutti gli elementi che parlano di questo ma ovviamente lui non sapendolo cioè non sapendo che il cancro è legato alla luna che è legato alla casa eccetera eccetera non riesce non riuscirebbe comunque a percepire questa frase anzi potrebbe sembrare che l'astrologo in questione calzi questa interpretazione in funzione di quello che lui dice perché potrei dire proprio perché sei del leone ti piace la casa oppure proprio perché sei dei gemelli hai a che fare con la casa oppure proprio perché sei dell'acquario ogni frase potrebbe essere fatta su una persona che non se ne intende e quindi ho sorvolato su questo perché sembrava palese e poi abbiamo parlato comunque d'altro di cose molto interessanti fa riflettere questa cosa perché spesso e volentieri anche le persone che non seguono l'astrologia o le persone che non vogliono nemmeno approcciarla alla fine si ritrovano comunque a vivere degli aspetti che hanno già intrinsechi nel tema natale il tema natale come dico io è sempre il libretto di istruzione di come funzioniamo per cui in un modo o nell'altro ci si arriva e spesso e volentieri diventa difficile per l'astrologo cercare di far capire che quello che il soggetto ha dentro che la la passione che ha per un qualcosa è assolutamente in linea con l'astrologia ma non è soltanto per dire hai un sole di quarta casa ti occupi di case punto fine no è da qui che si aggancia per poi poter parlare d'altro ma spesso e volentieri non c'è una risposta affermativa da parte del cliente perché pensa giustamente che sia un po calzato in modo forzato oppure interpretato per attirare l'attenzione e quindi a volte è sempre meglio cercare di arrivare a delle conclusioni partendo dall'interiorità partendo dai simboli più profondi quindi in questo caso la luna più che casa o immobiliare è stato poi o più opportuno da parte mia iniziare un discorso legato alla madre dove poi sono riuscito appunto ad attirare l'attenzione di questo di questo di questo ragazzo e abbiamo poi finito col chiacchierare di cose estremamente profonde grazie per l'attenzione